Signori, eccoci di venerdì ed eccoci con la lista dei 50 film peggiori della storia del cinema. Questa sera troviamo Beverly Hills Cop 2, un più di piatti a Beverly Hills 2, film del 1987 con Eddie Murphy, Judd Reynolds, Brigitte e Nielsen. Un film che presenta una trama simile al precedente del 1984, gestita malamente da un regista di talento come Tony Scott, che ha scritturato una dark lady ridicola come Brigitte e Nielsen. Il film dura 102 minuti. Il genere è poliziasco. Signori, alla prossima puntata. Buona visione, buona serata.